E dopo una lunga trattativa si è sbloccato l'accordo tra l'Udc e la rossa bianca, nasce la costituente di centro con Casini candidato premier. Sentiamo che cosa prevede dunque questo accordo con Danilo Scarlone. Il presidente Casini aveva detto che avrebbe fatto di tutto per unificare il centro ed ora con Pezzotta stappa quelle bottiglie di spumante che ieri erano rimaste in frigorifero. Serve un partito in Italia che abbia il coraggio di affermare i valori etici e anche di difendere l'identità cristiana del nostro paese. Allora via a una nuova forza politica di centro con per Ferdinando Casini premier guardando al futuro e il futuro si chiama costituente per un nuovo soggetto politico. Ora però raccontata Baci pensiamo alle politiche mettendo insieme una lista unitaria che non è, aggiunge Pezzotta, un semplice accordo elettorale. Anche perché, aggiungiamo noi, tutti promettono di andare nel prossimo periodo oltre l'Udc e la rossa bianca. Le aspettative elettorali sono quelle di diventare l'ago della bilancia tra un sistema bipolare definito muscolare. Si tratta di scardinare un sistema, offrirne un altro agli italiani. Credo che il ceto medio, la borghesia e comunque tutte quelle forze vive che nel paese ci sono e non hanno trovato in questo momento, in questi ultimi 15 anni, la soluzione ai suoi problemi. Ecco, noi vogliamo rappresentarli partendo dal basso e partendo dall'alta politica. Casini premier? Casini premier è sicuramente il candidato ideale in questo progetto di centro, quindi su questa base possiamo costruire il futuro. Dunque il centro c'è e non è un luogo geografico, dicono sorridenti. Insomma, ora che l'accordo è fatto, Tabaci può dormire sonni tranquilli.